Non servono i guardiani dello spritz, l'idea viene bocciata dal prefetto Serra per il quale la parola d'ordine è prevenzione, non repressione. Serra indica il percorso scelto dal sindaco Festa come quello giusto da seguire in modo da poter puntare sull'intelligenza delle persone, in particolare sui giovani. Guardi, la strada maestra è quella del sindaco di Avellini e cioè far capire a questi ragazzi che si muore e soprattutto far capire a questi ragazzi che continuando così si chiude, si chiude e se si chiude l'Italia va in fallimento. Ora non è possibile che ragazzi di 20-25 anni non riescano a capire un concetto così banale e questa leggerezza può essere drammatica non tanto per le persone quanto per il paese. Per il paese se si richiude si va in fallimento quindi non repressione forte assolutamente ma far capire il pericolo e se il pericolo non viene recepito si chiude. Questa è la strada maestra.